Eccoli quelli neri No aspetta quelli neri Ah giusto ce n'è il mio bianco Don che fai? Ai? Ai? Ma c'è bellezza molto? Siamo a bellezza 25 adesso Comunque abbiamo finito le prove Abbiamo fatto come al solito 1500 ore di prove E adesso E li sono fan E li sono fan E li sono fan Ah Martino E niente Adesso andiamo in teatro Andiamo in teatro Fai vedere i furgoncini che belli E facciamo Fate le facce emozionate Andiamo a fare Allora Andiamo a fare il check line vai Allora ragazzi Vi dico solo una cosa Già dai miei occhiali Si vede che siamo in chilling Ok? Però Allo stesso tempo Avremo bisogno di qualche ragazza Per farci un po' di tifo Un po' di tifo raga Sì 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 Ok Ok Allora Adesso passiamo a Leslie Les Dex Undertaker Solution Man Ehm Questa esperienza Un'esperienza unica Un'esperienza più bella della mia vita Lo sto passando With my family soul system Yo 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 Cosa Albi? Vuoi salutare? La mamma Tutti quelli che ci vogliono bene Ehm E voglio dire che Al live avranno uno show Che non si dimenticherà mai Ma sei strabio Che dov'è che guarda? Esatto Comunque salutiamo Chi salutiamo? Salutiamo Ciao mamma La mamma Mammi mammi Ciao mamma Mamma Jean Mamma Jean Bello No tu non saluti bello Fra Fra io saluto tutti Ciao Ciao a tutti Siamo arrivati? Forse siamo arrivati Dobbiamo fare il check line Ai 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 Come vedo un teatrino piccolo Ehm 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 In una parrocchia Ah Ma assumiamola aperto allora Ah Si Sembra giusto Ah Parcheggino Parcheggino Uh Ragazzi qua è un'emozione unica Indirittura d'arrivo Per i soul system Corro siamo arrivati, siamo arrivati arriviamoci qua cantiere niente la prima volta che siamo qua ragazzi io ho il cuore a me nelle freddette peasy allora siamo qua in teatro sei pronto a dare un po' di sberle alla batteria? io spacco tutto adesso appena mi danno siamo i batusi siamo i batusi altissimi negri e nelle mutande abbiamo delle fans che ci salutano ma non sappiamo chi siano ma dai no vabbè dovrete fare parte della nostra piccola videoclip le numero uno le numero uno sono loro è il wardrobe styling wardrobe styling ciao a dopo appena arriviamo lì limone vabbè andiamo ragazzi questo è martino è martino numero uno è che siamo in buona mattino cosa fate qua? oh 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 ma con una ci siamo solsystem del primo solsystem del primo questo è il mio raga questo è il nostro camerino proviamo la doccia non sono i nostri lì 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 lì